La primavera si avvicina ma la misura è ormai colma per i residenti del viale della stazione che non ce la fanno proprio più a chiudere un occhio sullo stato in cui versa il manto stradale. La situazione sta precipitando con buche e crepe stringendo gli automobilisti a eseguire brusche manovre per evitare danni non tanto alle autovetture quanto alla propria incolumità. Il conto alla rovescia per l'apertura del cantiere è partito da tempo. Sa che Comune l'ultima volta hanno parlato della primavera del 2018 dopo aver siglato l'accordo di programma e aver quantificato le somme. Il tratto di viale stazione che sarà oggetto degli interventi è di 490 metri dal ponticello di via Zappannotte al centro perché l'altra parte è stata oggetto di lavori nel 2014. Il costo complessivo dell'intervento è di 365.000 euro circa, 135.000 euro a carico del Comune, 230.000 euro di SACA con la delibera numero 92 del 18 aprile 2017. La SACA ha anticipato i 230.000 euro attingendo da un plafondo di 589.000 euro inseriti nel masterplan per gli interventi sulle reti idriche fognarie. Il cantiere doveva prima aprire a giugno, poi è stato deciso di cominciare a primavera. Ora sono i residenti, stanchi di aspettare, a spingere piede sull'acceleratore. È diventata di fatto una strada impercorribile. Non si può andare avanti così, intervengono gli abitanti della zona che nei mesi scorsi stavano valutando anche di presentare un esposto in procura.